Con l'entrata in vigore della legge numero 154 del 28 luglio scorso, sono state apportate importanti modifiche al decreto legislativo numero 4 del 9 dicembre 2012 relative alle sanzioni in materia di pesca e acquacoltura in applicazione delle più recenti normative europee. Depenalizzate innanzitutto le infrazioni commesse dai pescatori professionali sportivi e commercianti ittici nel caso in cui vengano catturati, detenuti e commercializzati prodotti ittici di taglia inferiore alla minima di riferimento. In queste circostanze la norma prevede una gradatoria della gravità dell'illegito commesso con sanzioni amministrative pecuniare da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 75.000 euro in funzione del quantitativo sottomisura detenuto. Laddove la detenzione e la commercializzazione sia riscontrata presso un esercizio commerciale e prevista la sospensione dell'esercizio commerciale da 5 a 10 giorni lavorativi. Secondo gli stessi principi sono state stabilite le sanzioni nei confronti dei pescatori sportivi recreativi e subacquei nell'ipotesi che il quantitativo totale di prodotto della pesca raccolto o catturato giornalmente superi il limite dei 5 chili. Al trasgressore può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 500 e i 50.000 euro in misura proporzionale al peso del prodotto ittico raccolto o catturato in eccesso. In generale sono state inasprite le sanzioni amministrative nei confronti dei pescatori sportivi e recreativi che nel caso commercializzino i prodotti della pesca rischiano una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 4.000 e i 12.000 euro. Se l'acquirente è un esercizio commerciale è prevista la sospensione dell'attività da 5 a 10 giorni lavorativi. Ulteriori innovazioni al sistema sanzionatorio sono previste nel caso di cattura illecita di specie ittiche soggette ai piani internazionali di protezione e salvaguardia quali tonno rosso e pesce spada raddoppiando le sanzioni previste.